Sindaco, lei nel presentare questo panno che è bellissimo, che ha emozionato la piazza, ha detto un panno liberatorio e di gioia. Sì, io l'avevo visto un anno fa quando ancora c'era il buio e lei invece già, sperando della speranza, a confronto del palio precedente, aveva già inteso fare questo palio proprio perché diventasse liberatorio, quindi è stato un auspicio che un anno fa lei in questo bozzetto aveva trasmesso queste cose, un piccolo bozzetto addirittura attraverso il telefonino per post-up l'avevo visto, quindi mi è stato segno di buon augurio, quindi oggi averlo visto nella propria interessa e completezza mi ha commossa anche a me, questo è.